Sono andata in Etiopia, nella bellissima regione del Sidamo, nel 1986 e ci sono andata perché ero chirurgo e mancavano chirurghi. L'Africa manca di tecnici, in compenso è ricca di africani che sanno fare un mucchio di lavori, senza il minimo problema, sicuramente meglio dell'europeo perché loro conoscono il posto. Quindi se siete capaci di amputare un altro, se siete capaci di seguire un parto, se siete capaci di scavare un pozzo, se siete medici, chirurghi, ostetriche, veterinari o ingegneri, infermieri professionali no perché ci sono già le loro, ma per qualche infermiera professionale possiamo anche mettercela, allora se andate nel terzo mondo siete dei soccorritori. Se non sapete fare nessuna di queste cose siete sciacquine, cioè individui a competenza zero che se ne vanno per il mondo, convinti che il mondo sia il loro posto Erasmus, con il loro zainetto e il cellulare per farsi il selfie, perché se non avete competenze l'unico motivo per cui andate in terra d'Africa è il selfie col bimbo africano. Negli anni 80 fu fatta una legge terribile in Italia, era il periodo dell'anonima sequestri, molte persone l'hanno sequestrate, fu fatta una legge atroce, qualsiasi cosa succeda, il tuo figlio lo fanno a pezzi e te ne mandano un pezzo alla volta, non puoi pagare il riscatto, altrimenti ti imputiamo di concorso in sequestro di persona. Questo pose fine ai sequestri. Facciamo immediatamente questa legge, la sciacquina che se ne va in giro per il mondo comincia a avere chiaro in mente che se le cose vanno male il popolo italiano non le pagherà la vacanza studio. Inoltre questo fiume di denaro che è tolto al popolo italiano vuol dire bambini che moriranno di leucemia perché mal curati, persone che moriranno di ustioni perché mancano in molti posti del sud i centri antiustionati. Con la stessa cifra con cui è stato pagato il riscatto di una sola persona, abbiamo potuto riscattare dalle miniere di oro del Burkina Faso 4.000 bambini africani, abbiamo potuto pagare 40.000 corsi di infermiera professionale e invece abbiamo finanziato il terrorismo col denaro di questi riscatti della sciacquina di turno che deve andare in Africa oppure in Iraq oppure in Siria a portare la sua clamorosa incompetenza. Abbiamo finanziato il terrorismo. Quante chiese con i cristiani dentro saranno fatte saltare grazie all'esplosivo comprato per queste persone? Quindi facciamo una legge che d'ora in poi chiunque se ne vada in giro a salvare il pianeta secondo le sue idee lo fa a proprio rischio e pericolo. Il popolo italiano non può più pagare questo perché non è sensato che lo Stato italiano finanzi il terrorismo internazionale. Io ho salvato la mia, certo grazie a quel denaro moriranno in Africa almeno 500.000 africani, ma tanto a te cosa te ne importa? L'importante è che tu hai salvato la tua. Per cui sciacquine, statemene a casa. Non sapete amputare un altro, non sapete seguire un palto, non sapete scavare un pozzo. Non siete inutili, siete dannose. State a casa.